Amici, lite tra Vaibess e Trigno, Maria costretta ad intervenire nuove tensioni emergono dalla scuola di Amici, dove un commento di troppo da parte di un concorrente ha rovinato il rapporto tra due allievi. Durante l'esibizione di Vaibess, il cantautore Trigno ha espresso un giudizio che ha suscitato la sua furia. La situazione è rapidamente degenerata in una lite, costringendo la conduttrice Maria De Filippi a intervenire per cercare di far chiarezza tra i ragazzi. Il suo intervento si è rivelato fondamentale nel tentativo di ricomporre i dissapori tra i due. È ora necessario approfondire quanto accaduto e le dinamiche che hanno portato a questo scontro all'interno del talent show. Amici, la lite tra Vaibess e Trigno richiede l'intervento di Maria De Filippi. Durante la puntata del Daytime di Amici, trasmessa questo pomeriggio, la conduttrice ha dovuto intervenire a causa di un acceso litigio tra i cantanti Vaibess e Trigno. La tensione è scoppiata dopo che un commento di Trigno, fatto durante l'esibizione di Vaibess, ha suscitato una forte reazione da parte del primo. Inoltre, durante la classifica, Trigno avrebbe mostrato una smorfia che ha ulteriormente infastidito Vaibess. Questo episodio ha compromesso il loro rapporto, costringendo Maria De Filippi a prendere in mano la situazione e a cercare di farli riappacificare.